Allora iniziamo, attiviamo il timer. Allora, come mi succede sempre, ho incontrato un prete. Di quelli vecchio stampo alla Don Matteo. Lo incontro e dice questa frase. Il problema non è cosa fare, ma come rimango affezionato a quello che mi ha affascinato. Poi un giorno un cliente mi chiama e mi fa. Arriva subito in cantiere e porta IDP. E io non ne avevo. Così, entrato in questo negozio, vedo queste scarpe antinfortunistiche, bellissime. E mi colpisce la marca. Perché è una nota marca di scarpe sportive. Infatti, secondo me, ci puoi pure giocare con quelle scarpe. Certo, vecchi le gambe di qualcuno, le rompi. Che sarà mai. Ed ecco che è lì che in quel momento che tutto si definisce. Dall'incontro con quel prete che mi ha dato un criterio. Guardando quelle scarpe mi sono detto diventare dei safety players. Cioè che le persone al lavoro siano più sicure. Da un punto di vista dell'ambiente di lavoro è più sicure nel senso di certe, più professionali. Si capisce? Bene, ok. Iscrivetevi al canale, mettete un like alla pagina e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Salutate SP! Ciao! Buon tappasso! Ok! Ciao! Buon tappasso! Grazie a tutti